Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi martedì 22 novembre 2016 siamo in diretta alle 7.30 come tutte le mattine da lunedì al sabato ben ritrovati cari telespettatori sul canale 17 di fano tv allora subito il santo di oggi la chiesa cattolica oggi fa memoria di una santa famosissima che è santa cecilia siamo nel secondo secolo siamo secondo secolo e santa cecilia era una nobile fanciulla romana la famiglia la diede in sposa ad un patrizio di nome valeriano e c'è una storia molto bella lei è patrona dei musicisti insomma patrona anche di tanti altri credo anche dei vigili se non ricordo male vigili del fuoco allora il sole è sorto alle 7 11 tramonterà alle 16 e 37 spero di aver fatto confusione con i patroni ma va bene lo stesso oggi è martedì diceva allora vediamo il tempo il cielo sarà oggi poco o al più parzialmente nuvoloso per il transito di velature temperature lieve diminuzione i valori minimi stazione nei valori massimi i venti sono deboli dai quadranti meridionali per la giornata di domani mercoledì 23 ancora cielo nuvoloso nuvole stratificate ma sono alte quindi attenzione alle foschie durante le ore più fredde della giornata ecco giovedì giovedì vedete il tempo cambia parzialmente nuvoloso con nella prima parte della giornata poi la nel pomeriggio aumenterà giovedì la nuvolosità e quindi da ovest nel corso del pomeriggio arriveranno le possibili precipitazioni sparse di debole intensità le temperature sono senza variazione di rilievo almeno fino a domenica il tempo sulle marche sarà caratterizzato da un ritorno di condizioni di lieve instabilità atmosferica non non ce la facciamo più questa è la pagina del resto del carlino furti e raffica in abitazioni aziende e distributori c'è chi è addirittura al quarto colpo subito qui non fa differenza se siamo sulla pagina di fano di pesero di senigallia da questo punto di vista tutto il mondo paese tutte le città tutti i paesi sono in un modo o nell'altro a ondate a periodi colpiti dal dal dai furti e non è un caso a ridosso delle festività non è un caso che c'è un escalation se andiamo a vedere le statistiche più o meno questo è il periodo in cui in cui si fanno furti anche i ladri hanno famiglia anche i ladri devono poter e quando vanno in ferie tendenzialmente mai però c'è una diminuzione dei furti più o meno verso il mese di gennaio questo è questo è un po l'andamento almeno fino agli anni scorsi e quindi questa è questa è la situazione la fotografia quindi da qui fino a natale ne avremo di furti in continuazione sia purtroppo nelle abitazioni che nelle attività private allora ospedale rivolta di seri invece la sanità in primo piano vado al tar dice il sindaco di fano scatenato contro la decisione di ceriscioli di indicare muraglia come il sito dove costruire il nuovo ospedale gambini invece lo stoppa gambini è il presidente dell'area vasta il presidente di tutti i sindaci non si rivotera però sul sito si sarà solo su chiaruccia lucia trionfo la camera e stasera il film sarà su rai 1 l'anteprima c'è stato a teatro la vedete qui nella fotografia e poi una donna urbino morta travolta da un autocarro un'anziana attraversava caricata sul cofano e sbalzata alcuni metri più avanti la cronaca all'interno delle pagine del resto del calino il sisma invece allarma i turisti l'sos lanciato dal presidente degli albergatori luciano cecchini venga la rai a tranquillizzarli il presidente degli alberghi consorziati scrive in regione locali dati alle fiamme no ad un clima di paura dice la confesercenti il presidente fiorelli dopo gli incendi ai danni di due ristoratori si faccia chiarezza al più presto alla categoria serve serenità questo è il suo augurio poi è stata presentata tutta l'iniziativa legata al natale il prossimo natale a fano stesso albero ma con effetti speciali un abbaglio di laser luci e led potenziato l'apparato tecnologico tante installazioni in tutto il centro storico carla cecchetegli assessore alle attività economiche dice gli stand in piazza 20 settembre dovranno fare i conti con il mercato impossibile infatti spostarlo fusione il consigliere grillino lascia siamo a saltara si dimette maturo favorevole al sì contrasti con il gruppo dei 5 stelle con tre colpi dopo il voto il fronte no marcia invece su ancona oggi in regione un gruppo di cittadini manifesterà contro l'aggregazione dunque in attesa di conoscere che fine farà il progetto di fusione colli al metauro va evidenziato che la vivace discussione dei differenti presi di posizione pre e post referendum hanno anche prodotto le dimissioni di un consigliere comunale quello dei 5 stelle di saltara lavori alle tubature siamo a san costanzo spuntano due bombe chiusa l'orcianese si tratta di ordigni della seconda guerra mondiale nei prossimi giorni ci sarà verrà effettuata la bonifica sulla sanità siamo a pagina 3 del resto del carlino seri serra iranghi e subito minaccia mobilito tutti o mi rivolgo al tar a ceriscioli dice le scelte si fanno con le delibere non con le note stampa terreno ci sono delle criticità su muraglia che a dire il vero massimo seria sempre ha sempre posto e messo in primo piano evidenziato terreno con problemi idrogeologici confinante con aree a rischio esondazione insufficiente dal punto di vista delle dimensioni e costi elevati di costruzione questa è la pagina la pagina di fano di scusate 3 bruno rapa e moreno pierone una scelta come quella del nuovo ospedale necessario che venga condivisa da tutti i sindaci attraverso la votazione palese e poi il presidente dice la tofano il presidente della tofano tolta la maschera dimostra ancora di essere il sindaco di pesaro e niente di più poi i grillini chiedono il sindaco e le reazioni dell'opposizione fanese i grillini chiedono la dimissione di massimo seria a guzzi ora vediamo se ha coraggio dunque l'opposizione fanese reagisce con la richiesta di dimissione di massimo seria la notizia che la regione ha scelto muraglia per la costruzione del nuovo ospedale i grillini hanno subito presentato un'interrogazione urgente con la quale ora oltre a chiedere al sindaco si intende di mettersi vogliono sapere se il primo cittadino continua a godere della fiducia e dell'appoggio della lista civica noi città di cui è espressione adesso andiamo sull'ultima pagina del resto del carlino una pagina triste quella la numero la pagina 11 una pagina davvero triste intanto perché racconta la storia di sofferenza e di solidarietà di questa ragazzina di sofia rondina nella sua abitazione di montellabate purtroppo sofia non c'è più l'ultimo saluto della madre via skype ci ha dato tanta forza come faremo adesso senza di lei aveva incontrato anche il papa il papa papa francesco per aiutare la famiglia ci sono stati vari momenti di grande slancio da parte di tutto il territorio poi insomma questa è la storia la storia terribile di questa dolcissima bambina che vedete in questa fotografia montellabate dirà addio domani invece a sofia rondina eccola qui con la madre patrizia cantori morta a 16 anni dopo una lunga lotta contro la malattia insieme ai suoi genitori colpita da emorragia celebrale curata in spagna e negli stati uniti siamo sempre naturalmente parliamo sempre della stessa ragazzina una pagina intera per tanto per testimoniare come davvero questa bambina era amata da tutti e questa sera alle 20 nella chiesa dei santi equiriche giulietta giulitta a monte labate previsto il rosario mentre domani mercoledì alle 11 nella stessa chiesa si celebreranno i funerari c'è stata paura invece ma l'allarme per fortuna è rientrato si temeva un caso nuovo caso di meningite in realtà si tratta di polmonite la nuova scuola dunque riapre dopo un giorno di chiusura per la paura appunto di un caso di meningite sollievo generale il bimbo pesarese è ricoverato d'urgenza domenica all'ospedale santa san salvatore con febbre e irritazione meningea sta molto meglio questa mattina dopo un giorno di stop appunto la scuola riaprirà i battenti ai suoi 385 alunni chiudiamo il resto del carlino vediamo subito sul Corriere Adriatico la prima pagina eccola qua il natale da record in centro storico siamo a pesaro eventi danze l'abeto è più illuminato d'italia ricci così raddoppiamo dice lui le presenze un albero speciale invece è laser a fano spettacolo a fossombrone ma è l'ospedale con la guerra di massimo seri per muraglia che tiene banco anche oggi sulla prima pagina del Corriere Pieroni Rapa in appoggio a seri che sul sito rivendica la decisione dei sindaci e allora eccole qua le pagine del Corriere Adriatico ospedale guerra per muraglia questa il Corriere questa mattina ripercorre la cronologia le tappe che hanno portato alle alla decisione poi recentemente annunciata appunto di Ceriscioli di puntare su muraglia ospedale unico di Marche Nord appunto a Pesaro perché questo di fatto è con tutte le tappe dal 20 luglio 2016 al 21 novembre 2016 questione chiusa Gambini nega un ripensamento il presidente della conferenza a favore della localizzazione voluta da Matteo Ricci anche Traversini difende la scelta del governatore non perdiamo altri anni elogia la regione Traversini di aver finalmente deciso dove costruire il nuovo ospedale poi si parla di alberi si parla di Natale ecco le due pagine siamo su qui su Fano l'albero con il laser atmosfera unica Fano svelato il calendario e l'allestimento per le festività mentre a Fossombrone c'è Magic Christmas con l'unione di 40 associazioni e Pesaro Pesaro un Natale che fa battere il cuore presentate le iniziative che da sabato con l'accensione delle luminari all'8 gennaio animeranno il centro di Pesaro coreografie del Mengaroni angeli bianchi agli ingressi della città giochi di luce e pattinaggio sul ghiaccio in piazza del popolo e insomma queste sono le due pagine che riguardano appunto il Natale che verrà mettiamo invece più telecamere siamo su Fano dopo i raid incendiari in centro l'assessore Cecchietelli conferma in programma il programma della giunta esercenti colpiti anche psicologicamente perché la crisi tiene lontana la clientela episodi da condannare speriamo che gli organi competenti facciano chiarezza sono le parole di Fiorelli della conf esercenti si ha un doppio progetto e qui siamo di nuovo a parlare di che cosa costruire dove prima c'era il distributore nell'area dell'ex Agip sono realizzabili sia i giardini storici che un grande parcheggio il geometra Armanni infatti dice per la sosta delle auto si prevedano due piani interrati il problema che lì come scavi trovi può darsi che ti vien fuori qualunque cosa fanno una città romana difficile poter scavare così tanto andare a fondo in una zona come quella il professionista consiglia di rivolgersi ad una società specializzata che investono risorse proprie certo un parcheggio sotterraneo due tre piani sarebbe la cosa ideale ci abbiamo pensato un po' tutti ma poi ci siamo fermati pensando proprio al punto in cui dovrebbero scavare insomma franco bollo dedicato invece all'isipo l'atletta di fano l'emissione venerdì 25 se risoddisfatto per l'omaggio alla città di fano poi i volontari associati rielegano etienne lucarelli presidente della proloco di fano e c'è quindi il nuovo direttivo l'esperienza nata da gente di quinta le sinergie hanno consentito di realizzare molte iniziative tra cui l'aiuto anche ai terremotati a san paterniano la campana della misericordia mancava dalla distruzione del campanile nel 1944 è un ex voto del prete polverari ok allora andiamo sull'altra pagina adesso velocemente del corriere adriatico dalla valle del cesano vetro rotto ma nessun furto colpita l'auto della consigliera si ama marotta vittima dell'episodio gristini di fare città non ho ricevuto alcuna minaccia il grande festa per il nuovo palace a orciano impianto per sport e cultura il saluto di talè la prima cerimonia del nuovo comune terre roveresche da senigallia 18 rilievi contestati dagli ispettori del comune nel mirino finiscono pure gli appalti e il reiterato ricorso alle proroghe direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi come sempre grazie per averci seguito ci rivediamo domani mattina alle 7 30 puntuali un saluto anche a quelli che ci seguono a tutti coloro che ci seguono in replica oppure sul sito internet occhio alla notizia questa sera invece alle 20 e 30 c'è il telegiornale per ora è tutto grazie per averci seguito buona giornata a tutti